84 scatti che sono stati effettuati da Nino Randazzo, una mostra curata da Nuccia Cammara, una mostra per testimoniare e per ricordare e per non dimenticare quella che è stata la tragedia, una tragedia immane, il 3 ottobre del 2013. 84 foto e 8 stazioni, 8 stazioni che rappresentano un calvario, un calvario che hanno dovuto sopportare questi migranti dall'Africa sino a Lampedusa, i 156 sopravvissuti, mentre è stato invece un giorno di morte per i 366. La mostra è stata... Perché si chiama Altro Mare? Altro Mare perché per noi il mare è sinonimo di vacanza, è sinonimo di spensieratezza, mentre per i migranti è fatto da illusioni, da speranze e purtroppo per molti di loro è fatto di morte, di violenze e di stupri.